Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Attenzione, ci attendono giornate davvero molto movimentate. Questo flusso di correnti umidi occidentali spinge vari sistemi nuvolosi atlantici verso l'Italia. In particolare per questo martedì provvediamo sì l'allontanamento della perturbazione giunta nell'ultimo ore sul nostro paese, con il ritorno anche di qualche schierite, qualche apertura, ma poi sono pronti altri sistemi nuvolosi, come vi dicevo, anche piuttosto intensi, raggiungendo il nostro paese nelle giornate successive. Come precipitazioni? Questo martedì al mattino ancora qualche acquazione tra Lombardia nord-est, un po' di variabilità anche nell'Italia centrale sul basso Tirreno, ma si va verso un temporaneo miglioramento in attesa di nuove piogge già mercoledì che interessano principalmente il versante tirrenico. Quindi in definitiva per questo martedì ci attendiamo sì un miglioramento del tempo, però ancora con qualche temporale al mattino tra Lombardia e nord-est, qualche acquazione nelle zone interne dell'Italia centrale e poi qualche pivasco che raggiunge anche il basso Tirreno. Ma per ora, ripeto, ancora con delle belle schierite e con clima relativamente mite, nei giorni successivi arriverà anche aria più freddina. Per sapere a questo punto nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è di mezzo il ponte di ogni Santi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie. Grazie.